Paladini, prima di iniziare questo video volevo informarvi che la prossima settimana sarò in vacanza, perciò se noterete che questi video sono un po' fatti in maniera frettolosa è per potervi lasciare qualcosa da guardare. Grazie in anticipo per l'attenzione, vi lascio al video. Prima della Grande Guerra l'Italia era alleata di Germania e Austria-Ungheria, nonostante ciò, allo scoppio delle ostilità, nel 1914 dichiarò che tale alleanza aveva carattere difensivo e non si ritenne costretta ad entrare in guerra. Un anno dopo però lo fece, al fianco degli alleati, sperando di recuperare i territori italiani perduti annessi all'impero austro-ungarico. Il fronte italiano era montuoso, in confronto agli altri fronti vi fu una maggiore percentuale di feriti rispetto ai morti, perché spesso i proiettili colpivano formazioni rocciose generando piogge di schegge particolarmente pericolose per il viso e per gli occhi. Il fucile d'ordinanza italiano fu il Carcano modello 91, conosciuto fuori dall'Italia anche come Manlicher Carcano Parravicino, ed è stato un fucile adotturatore girevole e scorrevole adottato dal reggio esercito dal 1891 al 1945. Adottato in sostituzione del Vetterelli Vitali modello 1870-87, è stato l'arma d'ordinanza dell'esercito italiano sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale ed utilizzava un piccolo calibro di 6,5 x 52 mm Manlicher Carcano. Venne adottato dall'Almania, dal regno di Bulgaria, dall'impero giapponese che adottò il Type I Arisaka, dalla Finlandia, dall'Italia, compresa il regno d'Italia, la Repubblica Sociale Italiana e successivamente la Repubblica Italiana, dalla Germania, dall'esercito nazionale di liberazione libico e dai partigiani jugoslavi. In totale il Carcano modello 91 restò in servizio per 89 anni. Trovò impiego nella Guerra Malista, nella Ribellione dei Boxer, nella Guerra di Libia, nella Prima Guerra Mondiale, nella Guerra d'Etiopia, nella Guerra Civile Spagnola, nella Seconda Guerra Mondiale, nella Guerra d'Inverno, la Guerra di Continuazione e la Prima Guerra Civile in Libia. L'Italia, inoltre, adottò il fucile automatico Ciai Rigotti. Fucile compatto, basato su un progetto innovativo di inizio novecento, si tratta della derivazione di un modello italiano di fine XIX secolo ed è a volte definito come il primo fucile d'assalto della storia. Era di dimensioni simile al Carcano usato dalle forze italiane, ma, essendo interamente di nuova realizzazione, non venne mai vista come una conversione di un fucile autoratore scorrevole. La pistola d'ordinanza dal reggio esercito italiano fu la Berretta M15. L'arma, ideata dal progettista capo Tullio Meringoni, fu brevettata dalla fabbrica d'armi Pietro Berretta il 29 giugno 1915 e fu subito adottata dal reggio esercito, da poco più di un mese impegnato nella Grande Guerra. Andava a sostituire le precedenti ordinanze, le rivoltelle Chameleau del Vigne 1874 e Bodeo modello 1889 e soprattutto le automatiche Glisenti modello X e Brixe modello XIII, non pienamente soddisfacenti. Fu prodotta in prima versione calibro 7,65 x 17 mm Browning, poi la Berretta M17, anch'essa adottata dalla reggia marina. Fu sostituita infine come ordinanza dalla Berretta M34. La bomba a mano tipo Sipe fu una bomba a mano italiana, prodotta dalla società italiana Prodotti Esplodenti, di Milano, ed impiegata dal reggio esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Adottata nel 1915, è la bomba più famosa della Grande Guerra, citata anche da Emilio Lussu nel capolavoro Un anno sull'Altipiano. Rimase in servizio ben oltre alla Grande Guerra, trovando addirittura impiego nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, l'Italia utilizzò l'elmetto Modello XVI, che era un'elaborazione italiana derivante dal precedente francese Andreon Modello XV, il quale è stato il più diffuso elmetto della Prima Guerra Mondiale. Nonostante l'Italia fosse male equipaggiata, lottò con valore, tanto da risultare uno dei vincitori. Purtroppo però, a seguito della cosiddetta vittoria mutilata, in Italia assalirà il potere Benito Mussolini, il quale, entrando nell'asse, trascinerà l'Italia in un conflitto che non era pronto a combattere. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando non dimenticatevi di suggerirvi argomenti nuovi da trattare e passate per le pagine, canali, link in descrizione. Ciao ciao e al prossimo video!